al memorial gianni scalera giunto alla decima edizione si gioca la finale classe 2010 tra il real carinaro e il casal pesella vedete i ragazzi delle due squadre schierate al centro del campo per dare vita ad un match bello divertente anche ricco di gol finisce 2 1 per il casal pesella una punizione da lontanissimo e barretta a trovare il gol dell'uno a zero reagisce la squadra in maglia rossa ed è bomber di tela a sfruttare un errore difensivo e trovare il gol del pareggio di tela non ci sta e sul lungo rinvio trova anche il gol del 2 1 che regala il successo ai propri compagni e a se stesso vince il casal pesella 2 1